Coronavirus, il Comune di Arezzo doterà tutte le scuole della città di 350 dispenser di gel igienizzante antibatterico, in pratica uno per ogni aula delle scuole elementari e medie, e due per ogni plessio di asili nido e scuole materne. Il provvedimento, considerando il numero di alunni, interesserà, comprese le famiglie, il 25% della popolazione. L'iniziativa è stata presa in collaborazione con il provveditore Roberto Curtolo e Mario Bracci della FISM. La prevenzione in materia sanitaria è prioritaria per l'amministrazione comunale, hanno dichiarato il sindaco Alessandro Ghinelli e l'assessore Lucia Tanti. A Rezzo si conferma una città sicura e con l'installazione dei 350 dispenser solo nelle scuole si pone all'avanguardia a livello nazionale per azioni di educazione finalizzata alla sicurezza.